Ce l'hai fatta a venire? Insomma, mi ha detto che vivi in Puglia. Che ci fai in Africa? Avevo bisogno di staccare per un momento. Questo posto sembra un sogno. Poi alla fine, però, come tutti i luoghi, è pieno nei lati oscuri. E cosa pensavi di trovare venendo qua? Disneyland. Come accetti tutto questo? Non l'accetto. Ci convivo. A presto.